come sempre vorrei concludere questo piccolo intervento se Gianfranco e Sergio vogliono portare il saluto buonasera a tutti per me è veramente sempre un piacere e un onore essere qua questa sera sono 25 anni di concerto, 25 anni in crescendo io devo dire due grazie un grazie veramente al corpo bandistico di Cassine che è il fiorello quello del nostro paese io sono orgoglioso di quello che fate voi fate un lavoro importante 365 giorni all'anno e quindi questi sono i risultati il lavoro e chiederei ancora un applauso alla Junior Bet che sono il futuro del nostro corpo bandistico e un grazie di cuore veramente a questo pubblico perché avere un pubblico così appassionato che segue il nostro corpo bandistico penso che sia la più bella ricompensa per quei musici che tutto l'anno vi impegnate con i corsi, con le prove, facendo avviare qualche volta i maestri però l'importante è quello è il risultato quindi bravi e continuiamo così perché siete veramente l'orgoglio del nostro paese grazie abbiamo venuto a portare il saluto personale non dico quello del sindaco perché l'ha già fatto quindi ha già parlato per noi tutti e auguro un buon proseguimento voi tutti voi siete numerosi da 25 anni c'è questa manifestazione a volte purtroppo il tempo non ha retto abbiamo dovuto ripiegare in una sede coperta ma stasera la sede coperta si intende la chiesa di San Francesco è che è un rifugio per qualsiasi emiglienza comunque vi auguro un buon proseguimento e un buon ascolto in questa magnifica serata di musica arrivederci grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.